ciao a tutti sono angela oggi parliamo di micro momenti sicuramente avete già sentito questa parola in quanto google negli ultimi mesi ha pubblicato diverse cose a riguardo diversi studi e articoli molto interessanti micro momenti è la parola che dovreste googolare nel momento in cui vi accorgete che guardando le statistiche del vostro sito ci sono più utenti da smartphone che da desktop in moca abbiamo fatto un interessante brainstorming su questo tema qualche mese fa perché ci siamo accorti che su diversi commerce che stavamo gestendo in quel periodo soprattutto in ambito fashion questo sorpasso c'era stato c'era stato da tempo e il traffico che generato da mobile dagli utenti mobile aveva dei tassi di conversione dove per conversione si intende l'acquisto molto più bassi rispetto al traffico da desktop la conclusione a cui siamo arrivati e la stessa qui di fatto è arrivato anche google ed è che questi utenti non sono utenti che sono pronti per acquistare sono utenti che stanno esplorando e sono utenti che si trovano nella fase del desiderio del vecchio modello aida e quindi la nostra strategia dovrebbe essere orientata a portarli dal desiderio all'azione si tratta di utenti che non sono ancora pronti per acquistare quindi la strategia potrebbe consistere nel chiedere loro delle azioni più semplici come l'iscrizione alla newsletter o diventare fan della nostra pagina facebook qualcosa che riescano a fare facilmente da mobile e che non non risulti per loro un'azione troppo impegnativa come può essere l'acquisto ad esempio se un utente si trova in prossimità del vostro punto vendita potrebbe avere più senso incentivare la sua visita al negozio piuttosto che chiedergli di fare un acquisto online o di sfogliare il vostro catalogo perché probabilmente il vostro venditore saprà essere più persuasivo di quanto riesca ad essere il vostro sito un'altra cosa che ha sicuramente senso fare è immaginare anche un sito più adatto a chi naviga da mobile e non mi riferisco solo al fatto che debba essere responsive questo è sicuro ma deve anche richiedere azioni più semplici appunto azioni che un utente che in quel momento non è ancora pronto per acquistare o non è sicuro di esserlo possa compiere ad esempio la possibilità di inviarsi la scheda prodotto di email in questo modo l'utente potrà ritrovarsi nella sua casella magari da desktop il link al prodotto che gli era piaciuto lo potrà acquistare comodamente in un secondo momento oppure spingere di più su call to action appunto che mirino a stabilire un contatto duraturo nel tempo con l'utente come l'iscrizione alla newsletter e seguire nei vari social il brand se invece l'utente che naviga da smartphone fosse già pronto all'acquisto perché non rendergli le cose più semplici mettendogli magari la possibilità di fare ordini telefonici come potete immaginare diventa quindi indispensabile pensare ai micro momenti all'interno di una della strategia globale di marketing online voi cosa ne pensate potete scriverlo nei commenti qui sotto grazie buona giornata